Nel 1630 fu rinvenuto ad Arezzo uno dei più mirabili specchi dell'arte etrusca, comunemente definito patera cospiana dal nome del suo più importante noto proprietario, il marchese Ferdinando Cospi di Bologna. Lo specchio è oggi conservato al Museo Civico Archeologico di Bologna. La descrizione del ritrovamento in un luogo non meglio specificato di Arezzo né testimonia l'uso come coperchio di un'urna cineraria. Lo specchio è datato al 330-320 a.C. ed è caratterizzato da un lato riflettente e dal retro decorato con una complessa scena incisa. Si tratta della narrazione della nascita di Menerva dalla testa di Tina, trasposizione etrusca del noto mito greco della nascita di Atena dalla testa di Zeus. Le divinità sono indicate da Didascalie, assecondando così l'esigenza di individuare i protagonisti dei miti secondo un uso presente nelle iconografie etrusche dal VII secolo a.C. Al centro della scena siede su un rialto roccioso Tina, la massima divinità etrusca, corrispettivo di Zeus, assistito da Thalna e da Thanr, cioè le ilizie greche, divinità tutelari dei parti. A lato, Sethans, il greco Efesto, riposa dopo aver spaccato con l'ascia bipenne la testa del padre. Nel VI secolo a.C. il processo di identificazione delle divinità etrusche con quelle greche si era ormai concluso. Questo processo portò in alcuni casi a vere e proprie assimilazioni, in altri a vaghe somiglianze, mentre alcune divinità rimasero tutte locali. Zeus, per esempio, entrò in Etruria con il suo bagaglio greco di miti e immagini, come lo specchio ben dimostra. Il permanere del nome pienamente etrusco rivela tuttavia come Tina, cioè il dio della luce dove Tina è radice comune al nome del dio e alla parola giorno in etrusco, fosse già venerato e parte dell'antico patrimonio religioso locale.